Mi chiesto di parlare il senatore Patuanelli, ne ha facoltà per dieci minuti. Grazie Presidente, Presidente del Consiglio, membri del Governo, onorevole colleghi. Io non posso non iniziare questo mio intervento ringraziandola Presidente Conte, ringraziandola sia sotto il profilo con un grazie emotivo e con un grazie razionale. Un grazie emotivo perché è innegabile che lei in questi 14 mesi abbondanti di Governo è riuscito a creare un grande legame certamente con il nostro gruppo parlamentare ma anche con il Paese e le manifestazioni di oggi ne sono una plastica dimostrazione. Ed è un grazie razionale perché grazie al suo lavoro, alla sua razionalità, alla sua capacità ha riportato l'Italia al centro dell'Europa e ha fatto sì che il contratto di Governo è nato, tornerò dopo su questo elemento, è nato per senso di responsabilità di due forze politiche che comunque sono sempre state diverse, avevano motivi di tensione, la sua capacità, la sua mediazione ha sempre fatto camminare questa maggioranza nel solco di quel contratto tranne forse nelle ultime settimane. Grazie davvero e la ringrazio anche per un altro elemento perché è riuscito a strappare a dei tweet, a dei comizi, alle spiagge il tema della crisi parlamentare e la portata qua dentro, la portata dove deve stare, la portata nelle aule dove si deve parlare di politica, dove si fa politica e dove si affrontano i temi anche quelli della crisi di governo. Lei ha usato spesso in questi mesi una locuzione che mi ha molto colpito, la leale collaborazione. Ha citato spesso la necessità di una leale collaborazione e io voglio fare mie queste sue parole, ho cercato di farle in questi mesi da capogruppo, ho cercato di trasmetterle al gruppo, anche nelle relazioni con gli altri gruppi politici, ho sempre cercato di portare avanti una leale collaborazione e allora oggi che forse le strade delle due forze di maggioranza che hanno sostenuto questo governo si divaricano, io posso dire che quella leale collaborazione c'è stata anche tra i gruppi parlamentari e ringrazio per questo il gruppo parlamentare della Lega per il lavoro che abbiamo fatto in questi 14 mesi. Ministro Salvini, lo sto cercando in entrambe le sue poltrone, non lo vedo ma mi ascolterà sicuramente. Ha parlato per 25 minuti, ha parlato dell'Italia nel 2050, ha parlato di quello che è stato, di quello che sarà, ha parlato dei rapporti con la piazza, non ha detto l'unica cosa che noi aspettavamo di sentire per capire, perché ha voluto la crisi di questo governo, perché ha voluto la crisi di questo governo. Noi lo volevamo sentire dalle parole del Ministro Salvini, perché poi ho sentito qualche giravolta politica nelle dichiarazioni fatte ovviamente subito dopo l'intervento in cui si dice che c'è un auto staccarsi la spina da parte del Presidente del Consiglio. Io credo che parlino gli atti, parlano i comunicati a stampa iniziale dell'8 agosto, anzi parla prima l'interlocuzione privata con il Presidente del Consiglio di cui il Presidente ci ha riferito, parla nel comunicato stampa, parla la mozione di sfiducia, oggi è stata ritirata ma direi che è un po' tardi, volevate calendarizzarla il 14 agosto, è evidente chi ha aperto questa crisi, su questo non ci sono parole, è evidente chi ha aperto questa crisi. E allora per capirne i motivi ci provo io, provo a cercare di interpretare dai fatti i motivi di questa crisi e non possono partire dal 4 marzo, perché ricordo che le elezioni politiche in questo Paese sono state il 4 marzo del 2018 e non il 26 maggio del 2019, quella era una elezione europea. Ricordo che a quelle elezioni politiche il Movimento 5 Stelle ha raccolto un ampio consenso, qui dentro il Movimento 5 Stelle forse qualche volta ce ne siamo dimenticati, così come la Camera e il gruppo di maggioranza relativa è quasi il doppio del secondo gruppo più rappresentato qui dentro. E siccome avete votato una legge elettorale con il Partito Democratico, questo è un altro dato, noi quella legge elettorale non l'abbiamo votata, quel risultato politico non ci ha consentito di governare da soli, abbiamo fatto un gesto di grande responsabilità, su cui poi abbiamo avuto la vostra reale collaborazione. Abbiamo proposto un metodo, un metodo di lavoro, che è quello del contratto di governo, il contratto alla tedesca che oggi è ritornato ma non è un'invenzione di oggi, è una proposta che ha fatto il Ministro Di Maio al Paese e a tutte le forze politiche. E in quel solco noi abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato con molte tensioni, con difficoltà, affrontando temi che spesso ci dividevano e l'abbiamo fatto però sempre nell'interesse dei cittadini e pensando a quello che avevamo scritto in quel contratto. Io credo che nessuno di noi, io non ritorno su tutte le cose che abbiamo fatto assieme, l'ha già detto la Presidente Taverna, l'hanno detto in molti qui dentro, meglio di come potrei dirlo io oggi. Ma io non rinego tutto quello che abbiamo fatto, io sono orgoglioso di quello che questo governo è riuscito a fare in 14 mesi, che è molto di più di quello che è stato fatto nei vent'anni precedenti. E in questi 14 mesi mai abbiamo sbattuto i pugni dicendo noi siamo in 107, voi siete meno, presentate meno emendamenti, fate meno provvedimenti, calendarizzate meno cose, mai. Noi abbiamo sempre portato avanti questo contratto sulla base della leale collaborazione più volte citata da Presidente Taverna. E allora che cosa è successo? È successo che il 26 maggio c'è stata un'elezione non certamente politica, è stata un'elezione per il Parlamento europeo. E allora sì che qualcuno ha cominciato a sbattere i pugni, a voler dettare l'agenda politica di questo governo, a voler citare temi che con il contratto di governo non c'entravano nulla. Faccio solo un piccolo esempio, quello degli inceneritori. Parliamo dell'Italia del 2050, parliamo di sviluppo, di economia circolare, di green economy e continuiamo a parlare di inceneritori. Quell'elemento non c'è nel contratto di governo. Ed è stato questo atteggiamento, questo continuo alzare il livello della tensione che ha portato ad oggi, perché si vogliono pieni poteri. E io capisco che si voglia in qualche modo concretizzare un successo elettorale in un'altra competizione elettorale e si voglia provare a rivolgersi ai cittadini per concretizzarlo anche qui. Quello che capisco un po' meno è il 10 agosto rivolgersi a Silvio Berlusconi per cercare di fare un accordo elettorale. Ecco, quello faccio più difficoltà capire. Il tema di questa crisi d'agosto non è la questione delle vacanze. Guarda, io faccio il professionista da quasi 20 anni. Le parole ferie e vacanze sono cose che mi ricordano qualcosa ma non so esattamente cosa siano. Noi siamo sempre stati qua dentro, abbiamo sempre lavorato negli interessi dei cittadini, abbiamo sempre cercato di fare il bene dei nostri cittadini. E dall'elezione europea avete cominciato in loop a dire che noi siamo quelli del no. Io credo che voi oggi siate quelli del boh perché non capisco esattamente quale sia la vostra proposta. Non riesco a capire il senso di presentare una mozione di sfiducia, calendarizzarla, richiedere la calendarizzazione e poi invece ritirarla. Io però posso dire alcune cose. Posso dire che noi abbiamo sempre pensato di mettere davanti a ogni nostro interesse quello dei cittadini. L'interesse collettivo del Paese è il faro che ha sempre guidato l'azione politica del Movimento 5 Stelle. Sarà così anche in questa occasione. Io credo che forse dopo le elezioni europee qualcuno ci ha dato per morti. Molte volte ci avete dato per morti, un po' tutti qui dentro. Probabilmente l'avete fatto troppo presto ma noi siamo il Movimento 5 Stelle. Noi non abbiamo paura di svegliarci la mattina e guardarci in faccia. Noi non abbiamo paura di rivolgersi nuovamente al Paese e al popolo con le nuove elezioni. Noi siamo il Movimento 5 Stelle e non abbiamo paura di niente.